Musica Buongiorno, sono la professoressa Marino della scuola Corbetti di Filippo di Quarto e quest'anno abbiamo partecipato al progetto dell'associazione Hunter, il sole in classe. Gli alunni si sono estremamente entusiasmati nel realizzare disegni ed elaborati sulle fonti di energia rinnovabili e speriamo di vincere perché così con la cifra saremo tutti quanti contenti di sistemare l'area verde di stando della nostra scuola. Votateci, grazie. Buongiorno amici di Hunter, anche io come ambasciatrice chiedo di votare i ragazzi della scuola Corbetti di Filippo. Mi raccomando, votatevi, contiamo sul vostro aiuto. Ringrazio la dirigente, gli insegnanti ma soprattutto ringrazio i ragazzi che hanno accolto con grande entusiasmo il nostro progetto. Votateci! Ringrazio la ringrazio 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 Ringrazio la ringrazio